Leo e Sofia, due di loro, ci presenteranno il canto con cui concludiamo il programma. Chi sono Leo e Sofia? Allora, Leo? Buonasera a tutti! Noi siamo i bambini della pace, ma rappresentiamo tutti i bambini e i ragazzi della città. Insieme anche al sindaco e al presidente della provincia, vogliamo che tanto siamo a città della pace. Oggi vi cantiamo Giro la pace, scritto dai bambini della scuola di Martignano e musicata da papà Mauro. Auguri di pace a tutti! La pace gira nella nostra città e porta tanta felicità. Se ognuno nel suo cuore tiene sempre un po' d'amore. C'è un giorno che con poco sai, va diventare la vita un gioco. Ti dice cosa fare se la pace vuoi portare tra noi. Aiuta qua, aiuta là! Non c'è più la povertà, ascolta questo, ascolta quello. Fai un mondo tutto bello, perdona su, perdona giù. E la guerra non c'è più, proprio per tutti, ecco qua, il segreto della felicità. Allora vieni così pace tra noi, ecco quello che conta sai. Una città più bella brillerà come una stella. Tutti così, insieme poi, rendiamo il mondo di tanto bene. Un altro tuo d'amore, il mondo è da migliore. Vedrai, aiuta qua, aiuta là! Non c'è più la povertà, ascolta questo, ascolta quello. Fai un mondo tutto bello, perdona su, perdona giù. E la guerra non c'è più, pronto per tutti, ecco qua, il segreto della felicità. Non c'è più la povertà, ascolta questo, ascolta quello. E la guerra non c'è più, pronto per tutti, ecco qua, il segreto della felicità. E la guerra non c'è più, pronto per tutti, ecco qua, il segreto della felicità. Grazie. 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 Grazie.